Buonasera a tutti, siamo qui con Ane, Tex e Novak di Dischi Sotterranei Ciao a tutti, come state? Bene, sarà grande Fantastico Dischi Sotterranei è un'etichetta che nasce da musicisti per fini di autoproduzione è cresciuta nel tempo, ci sono state tante fasi diciamo, proprio partendo dalla fondazione del progetto siamo ormai a più di dieci anni dall'inizio dei sotterranei e poi, appunto, dicevamo varie fasi ci volete un po' descrivere quella che è stata la storia i punti nevralgici importanti, i punti di svolta, insomma Volentieri allora, i sotterranei nascono prima di dischi sotterranei l'idea nasce nel 2013 e ha luogo all'inizio, a ottobre del 2013 appunto, in uno scantinato di un locale malfamato di Padova tu te lo ricorderai eravamo semplicemente un collettivo di musicisti universitari molto numeroso penso intorno alle 30 persone che semplicemente cercavano uno spazio dove esibirsi dove organizzare, dove esprimersi e la cosa ha avuto un grandissimo successo perché evidentemente c'era quella necessità non solo in chi suonava ma anche in chi aveva semplicemente voglia di divertirsi in maniera facile e quindi la risposta a livello di affluenza è stata enorme e ancora ce la ricordiamo tutti chi c'era dieci anni fa undici anzi e lì si è creato il gruppo che poi ovviamente è diventato meno numeroso le strade si sono separate in realtà con la maggior parte delle persone ancora ci si vede che poi è diventato Etichetta l'anno successivo soprattutto a partire dal 2015 che poi nel 2019 ha visto 18 ha visto l'ingresso di Novak che ha dato una marcia in più una velocità diversa al nostro progetto ovviamente nel frattempo attorno a dischi sotterranei e a dischi sotterranei sono successe tante cose perché noi non abbiamo mai fatto solamente dischi sotterranei ma abbiamo sempre avuto altri progetti che comunque hanno in qualche modo arricchito quello che poi è dischi sotterranei oggi a partire dal 2019 dischi sotterranei fa parte di un'azienda che fa anche altre cose ad esempio organizza Arcella Bella si occupa di comunicazione di marketing di eventi di musica anche al di fuori di dischi sotterranei quindi la nostra struttura è passata dall'essere un collettivo di 30 ragazzi che volevano divertirsi a diventare un'associazione culturale di una manciata di persone che si impegnavano per promuovere contenuti culturali nel Padovano e nel Veneto diciamo e con questa associazione abbiamo fatto tante cose abbiamo organizzato festival il Subcult Fest abbiamo curato la programmazione di alcuni locali abbiamo fatto tante cose e poi adesso è un'azienda con una struttura con dei dipendenti e con una ragione sociale tutto quello che comporta la cosa però sì mi piace sempre dire che prima di dischi sotterranei esistevano i sotterranei ed è ancora così nel senso che e poi Nova che ve lo racconterà parlando dei nostri artisti sia prima sotterranei che dischi sotterranei ed è semplicemente un modo di intendere l'arte, la cultura, la musica l'espressione il modo di fare queste cose che vi ho appena detto quindi un'anima che si è conservata nel tempo è evoluta ma l'interpretazione di che cosa è per noi fare musica nella vita secondo me è fedele a quella che che ci animava dieci anni fa questa sera avremo un assaggio di dischi sotterranei con due gruppi alle DNA e New Candies ma nel tempo tanti artisti sono entrati nel roster di dischi sotterranei e ci volete un attimo descrivere qual è la panoramica di tutti questi gruppi ci sono tante influenze diverse tanti generi e le vostre scelte certo beh collegandomi anche a quello che stava dicendo Tex appunto rubando anche una citazione secondo me molto interessante di Francesco di Ane è che dischi sotterranei è un'etichetta di attitudine non di genere anche se è partita effettivamente come un movimento di genere adesso è più legata all'attitudine quindi all'interno del nostro roster ci sono gruppi che fanno elettronica gruppi che fanno rock psych pop anche qualsiasi cosa che secondo noi appunto ha un valore porta diciamo qualcosa in più di quella che è la scena che è la scena attuale italiana anche perché l'evoluzione diciamo della scena italiana in Italia è un'evoluzione molto strana che ha appunto questi padri fondanti del cantautorato eccetera eccetera che si impongono anche nelle scelte di etichette più grandi major eccetera eccetera perché trascinano un po' tutto attorno a quello che quello che funziona no? Mentre noi facciamo una scelta di facciamo una scelta facciamo una scelta alla base quindi scegliamo quello che ci piace quello che si rappresenta nel modo corretto quello che ha urgenza di uscire ha urgenza di esprimerci senza intervenire tra l'altro a parte quando ce n'è bisogno quando ce lo chiedono gli artisti stessi nella parte di direzione artistica anche proprio perché se tu trovi un artista che ha un'urgenza ha qualcosa da dire eccetera eccetera e ti piace e piace l'etichetta ovviamente quindi scegli di farla entrare nel roster insomma poi qualcosa da dire ce l'ha e solitamente lo dice molto bene A proposito di trend in questo periodo lo streaming la musica liquida è un po' la tendenza ma nel vostro merch notiamo ancora supporti fisici dischi vinili sembra una scelta quasi anti economica ma vorremmo capire un po' qual è la motivazione a base di questa scelta nel senso che comunque è molto coraggiosa allora prima di risponderti a questa domanda che poi ti rispondo sul merito proprio anche della scelta del fisico non fisico dello streaming ti faccio una piccola premessa che vorrei un attimo aggiungere delle cose che hanno detto i ragazzi prima che c'entra comunque con questo secondo me è una cosa cruciale da far capire anche per comprendere la scelta poi di stampare i vinili per le vende d'esordio e tutta una serie di altre questioni è che i dischi sotterranei ha un po' l'ambizione di non essere solo un'etichetta riscografica non che sia poco essere un'etichetta riscografica però noi non rientriamo in quella cioè non entriamo nel merito della scelta unicamente di prendere dei progetti per poi commercializzare i dischi con un guadagno istantaneo noi abbiamo un po' l'ambizione di creare una scena intorno all'uscita discografica quindi la selezione che facciamo anche nei confronti del roster è di andare a cercare quei progetti che sono coerenti con l'attitudine dell'etichetta e noi siamo fan di tutti i nostri progetti noi siamo veramente fan delle band questa sera esempio New Candies e Allie DNA i New Candies noi li abbiamo fatti suonare come promoter dieci anni fa abbiamo organizzato tanti concerti di New Candies prima che entrassero in dischi sotterranei perché siamo fan dei New Candies gli Allie DNA sono un gruppo che ha una storia incredibile di cui noi siamo tutti fan e che per noi sono importanti perché hanno fatto parte di una scena reale prima della nostra che in qualche modo ci piace credere che si possa collegare quello che facciamo noi quella scena underground padovana ma non solo che ha cambiato in qualche modo il percorso della scena musicale alternativa italiana a noi piace pensare che i dischi sotterranei abbiano questo compito qui di lasciare un segno di creare situazioni per cui poi l'arte si esprima al meglio e anche la ricerca degli spazi di cui parlava Tex prima è stata presente dal primo giorno nel nostro percorso la volontà di creare delle situazioni in cui poi l'arte e la musica si va a generare i dischi sono una conseguenza noi ora stiamo lavorando come discografici come editori come manager abbiamo contratti di diverso tipo crediamo nel fatto che la musica vada fermata poi su un supporto che poi possa anche essere solo digitale a volte però è tutto una conseguenza cioè noi crediamo che in qualche modo sia quello che dici che conta prima di tutto poi noi cerchiamo di amplificarlo e andiamo a lavorare sulla modalità però è il contenuto prima di tutto e in questo senso poi andiamo a calarci nella scelta di stampare o meno le cose noi siamo un'etichetta a cui piace stampare i dischi quindi tendenzialmente un supporto fisico lo facciamo per ogni progetto quasi ci piacciono i vinili quindi quando c'è la possibilità stampiamo i vinili facciamo i cd facciamo le magliette facciamo quello che serve ma perché non vogliamo lavorare unicamente dal punto di vista prettamente numerico nelle scelte poi che facciamo c'è un investimento poi se mi fai la domanda precisa sulle parti finanziarie economiche certo lo streaming paga poco però tendenzialmente costa anche poco farlo mentre magari stampare i vinili certo venderne tanti poi è un rientro economico maggiore però stamparli è un costo noi ci troviamo anche spesso a voler soddisfare anche le richieste delle band e dei progetti a cui piace avere il disco quindi cerchiamo sempre di farglielo avere poi insomma li stampiamo anche perché poi c'è la richiesta e cerchiamo poi di vendere abbiamo uno shop che sta andando sempre meglio che gestiamo e io vedo che negli anni un po' alla volta stiamo anche un po' educando il nostro pubblico che si sta creando e questa è una cosa che mi piace tantissimo più passa il tempo e più vediamo che si sta creando un pubblico che segue il roster di schi sotterranei quindi magari arrivano ordini per cui comprano vinili di gruppi diversi quindi noi diventiamo anche un po' un canale promozionale che avendo magari dei progetti che funzionano di più poi si portano dietro i progetti che inizialmente magari funzionano meno e quindi ci arrivano sempre più ordini misti e noi tendenzialmente stampiamo per ogni gruppo qualcosa insomma io vi ringrazio per questa chiacchierata e ci vediamo dopo con Alinei e New Kentis e grazie a Sherwood che ogni anno ci ospita questa è l'ottava volta quindi insomma è un rapporto che ormai va avanti da tempo e di cui siamo molto orgogliosi dicevi ottava edizione mi pare ottava edizione ottava buona serata a tutti grazie ciao grazie a tutti grazie a tutti